Action! È straordinario, davvero, davvero. Sentite. Peter, forza, vieni qui. Sentite, adesso facciamo una scommessa, va bene? Dai, muoviti. Siediti. È buio qui dentro. Avanti, non ti addormentare. Ok, scommettiamo. Che ore sono? 9 meno 20. Sì, che tra, diciamo, 12 ore, tutti e tre voi, sarete caputte, ok? Come? Voi scommettete che sarete vivi domani alle 9 e noi scommettiamo che sarete morti. Ci state? Non vogliono scommettere. L'opzione non è prevista. Ci deve essere una scommessa. Cioè, voi che ne dite? Secondo voi hanno qualche chance? Siete dalla loro parte, non è così? Su chi scommettete?